Per il Pescara non è un addio definitivo al primo posto. Troppo presto per farlo con 27 giornate ancora da disputare e 81 punti a disposizione. Ma il pensiero del primato in questa fase è da accantonare. Pensarci ancora è controproducente. Le prestazioni dell'ultimo mese dicono che ora l'obiettivo è un altro, crescere e diventare squadra, cosa che il Pescara ancora non è. E per farlo sarà necessario trovare equilibri e una propria identità. Il compito è affidato al tecnico Gaetano Auteri, intorno alla cui figura tanto si discute, spesso anche mettendo in secondo piano le responsabilità dei calciatori che in campo ci vanno e che dovrebbero mettere più determinazione in quello che fanno. Il gol preso a Siena è un remake di altri presi in precedenza, troppa passività e poca decisione nei contrasti con una palla che non viene mai allontanata fino alla stoccata di Pezzella. Ad Auteri però è giusto chiedere di intraprendere una strada. I giocatori oramai li conosce tutti e sa che andare avanti con una difesa a colabrodo non porta da nessuna parte. Se questo gruppo è in grado di recepire i principi di gioco del suo 3-4-3, soprattutto per la fase difensiva, ora c'è bisogno di un salto di qualità. Altrimenti si vada da un'altra direzione, un centrocampo con i tre interni ad esempio per avere un po' più di protezione. Dopo i rumors degli ultimi giorni, quella del presidente Sebastiani, andare con Auteri a vedere il derby di Pineto domenica scorsa, può essere stata una mossa importante per dare forza, anche in pubblico, alla posizione del tecnico. Il Pescara però deve dare segnali di una inversione di tendenza a cominciare dal match con l'Olbia. Poi un altro sconto diretto, quello di Cesena. Prima e dopo i derby di Coppa e campionato col Teramo. Anche per l'attacco è il tempo di qualche scelta incisiva. Ferrari è stato titolare solo due volte, ma con questa media gol farne a meno dal primo minuto sembra impossibile. Anche De Marchi, che segna e si prodica tanto, pare intoccabile. Lavorare a una soluzione che li preveda entrambi in campo dal primo minuto sembra il minimo. Intanto per il match di domenica l'Adriatico contro l'Olbia, per la prima volta in stagione all'ora delle 14.30, tornerà a disposizione Ianes. Ancora incognite su Drudi e Ingrosso, i cui problemi muscolari non sono stati risolti. Drudi manca dalla trasferta di Gubbio. Ingrosso non ha giocato a Siena. Il suo guaio non è di grande entità, ma bisogna evitare ricadute pericolose. Nell'Olbia mancherà il bomber King Udo. Al suo posto potrebbe giocare Simone Mancini, possente centravanti, cresciuto nelle giovanili del Pescara.